6 minuti la Juventus è già sotto di un gol. Rizzitelli da solo brucia Peruzzi in uscita e il Torino passa in vantaggio. La Juventus si scuote e abbozza una reazione che non diventa mai troppo convincente, ma è utile per tenere in apprezzione Granata. Il più deciso Ravanelli recuperato dell'ultimo minuto. Il pareggio temporaneo al ventitreesimo, punizione di Baggio e tocco maldestro di Maltagliati che sorprende Pastine. La squadra di Lippi ha un moto d'orgoglio e sulle ali del pari ritrovato tenta addirittura il sorpasso, animata dal solito trio d'attacco. Ma l'occasione limpida è ancora per il Torino, a fondo di Anglomà e cross preciso per Rizzitelli ancora solo in area.